Una importantissima manifestazione calcistica qui nei locali della Foresteria dell'Union Tinchimera. Abbiamo il dirigente Eros Vanni che ci illustrerà la finalità della presenza di grandi allenatori di una squadra di Serie A del Torino. Facciamo uno stage riservato agli allenatori. Abbiamo la soddisfazione di avere allenatori qualificati, allenatori professionisti e un dirigente del Torino Calcio che è veramente una delle persone forse più preparate per istruire gli allenatori. È veramente con insomma piacere che abbiamo fatto questa manifestazione. Ci sono anche bambini che fanno tutti gli esercizi sotto lo sguardo attento degli istruttori e questo è proprio per dare modo agli istruttori di capire il bambino dove può sbagliare dando un suggerimento oppure capire veramente che all'età di 12-13 anni i bambini già apprendono facilmente quello che gli istruttori gli chiedono. Due personaggi importanti, addirittura un ex torinese Paolo Beruato e Roberto Bacci qui presenti con il tecnico De Maria che sta illustrando le tecniche giovanili ai giovani. Parliamo da Paolo Beruato in ordine alfabetico. Allora una presenza importante e quanto è utile la presenza di personaggi che nel mondo del caccio hanno fatto una professione vera per i nostri ragazzi? È fondamentale. Se pensi che un ragazzo è giovane, De Maria, però ha un ventennio di esperienze tutta dedicata ai giovani. Io personalmente lo ritengo uno dei migliori istruttori d'Italia e quindi è un arricchimento per tutti gli allenatori che sono qui. È vero, come diceva lui prima, è importante, bisogna vedere, lui ha un'idea, questa è l'idea del Torino Calcio e poi qui ognuno prende quello che è meglio pensare. Ma sicuramente oggi per tutti gli allenatori che sono qui è una giornata formativa e poi è quello che vogliamo da questo tipo di riunioni. Grazie Paolo Beruato, grande atleta del passato, come grande atleta del passato è Roberto Bacci e attualmente allenatore di grandi formazioni di calcio e ritrova qui in mezzo ai ragazzi. Allora Roberto, una presenza importante, questa è un'iniziativa veramente valida dell'Union Tinchimera. Sì, è un'iniziativa veramente che abbiamo avuto, soprattutto Andrea Tuzzi come Union Tinchimera perché è una giornata speciale per i nostri ragazzi. Si trovano a fare una seduta allenamento che fanno gli esordienti del Torino quindi per i ragazzi penso che sia un giorno indimenticabile. Sta insegnando le abilità al dominio della palla e i ragazzi stanno rispondendo bene, sono concentrati perché si sentono veramente come se per un giorno fossero dei giocatori granata. Presidente Andrea Tuzzi, una bella soddisfazione avere dei tecnici che insegnano agli allenatori non soltanto dell'Union Tinchimera ma di tutte le giovani di Aretine, una bella soddisfazione radunare persone importanti ma particolarmente chiamare il top di questa categoria, delle giovani come il tecnico di Maria del Torino. Penso per la mia esperienza e per come io sono andato in giro anche a informarmi, a formarmi, siamo sicuramente al top per quanto riguarda l'attività di base. Chiaro che è l'inizio di un percorso per noi che come tale deve comunque sia portare a un'abitudine in questo tipo di incontri e quindi insomma comunque per essere l'inizio siamo molto soddisfatti.